È morta all'ospedale San Donato di Arezzo una donna per il batterio della legionella. È il secondo caso che interessa il territorio aretino in poche settimane. La situazione è arrivata a un punto, non posso dire di non ritorno, ma non più di attenzione, ma di allarme. Il caso è stato attenzionato dall'azienda sanitaria che ha inviato anche la richiesta di un'ordinanza al sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli datata 3 febbraio, nella quale però non si chiede la chiusura della struttura né tantomeno il blocco dei ricoveri come invece era accaduto a dicembre per la clinica San Giuseppe di Via Fleming. Qui una donna di 64 anni era stata ricoverata per un intervento chirurgico e successivamente era morta a fine gennaio a causa dell'infezione. Io sono molto preoccupato perché di fatto un caso di legionella in una struttura sanitaria da informazioni assunte in qualche settimana si domina, si risolve, si azzera. Qui addirittura c'è stata un'espansione, ovviamente in un'altra struttura completamente diversa, quindi evidentemente casi diversi ma che sottendono la stessa, evidentemente non sufficiente attenzione alla cura delle acque di queste strutture sanitarie. Per il caso di queste ore è arrivata anche una nota da parte della struttura privata oggetto dell'ordinanza la San Giuseppino Sanità. Le prescrizioni richieste dal sindaco del comune di Arezzo in ordine al controllo e alla sanificazione della struttura erano già state assunte antecedentemente dalla casa di cura. La stessa nel frattempo aveva già operato attività di autocontrollo risultato all'esito negativo alla legionella. Nel frattempo è arrivata anche una precisazione da parte dell'Ansl. La paziente era ospitata in una struttura sanitaria convenzionata dal territorio aretino dove era adegente e stata quindi ricoverata in ospedale già con l'infezione da legionella e da causa di essa. Il sindaco di Arezzo infine chiede chiarezza. Ho scritto una nuova lettera al direttore generale d'Urso che stavolta ho mandato per conoscenza anche al prefetto e anche al nucleo antisofisticazioni dei carabinieri di Firenze perché ritengo che questo modo di procedere a piccoli passi per salvaguardare ovviamente per quanto possibile l'attività connessa con le case di cura ma che in questo caso sembra non essere stato sufficiente dia gli esiti che tutti noi ci auspichiamo e cioè che questo tema della legionellosi venga risolto definitivamente.